ciao amici di moto.it oggi sono in compagnia di un modello di 125 della casa beta model year 2023 appena fresca fresca uscita dalla linea di produzione tante piccole novità e comunque per realizzare una moto sia pronta gara per quello che sono i ragazzi che stanno arrivando alle scindelate più piccole ma soprattutto per noi ormai diciamo di mezza età anche un strumento davvero divertente ed efficace per divertirsi a tutto spiano tutto anno andiamo a vedere come va e quello che si può fare con un 125 ciao guarda ragazzi chi è che dice che bisogna essere giovani per guidare 125 dice un mare di stupide perché devo dire che 125 innanzitutto è divertentissimo anche a 40 e poi ti sveglia tantissimo nella guida perché comunque devi essere agile deve avere sempre il motore pronto devi essere con una buona percorrenza in curva e devo dire che beta per il 2023 ha fatto un altro step in avanti io ricordavo questa moto già comunque super performante e molto divertente però con il fatto che sono andati a lavorare sull'albero motore che l'hanno alleggerito anche le masse volani che sono un po alleggerite il motore è diventato ancora più pronto più reattivo più scattante quasi verso come posso dire quello che ci ricordavamo come moto da cross quindi la dinamica della sensazione di leggerezza di prontezza è ancora più immediata certo che per l'enduro magari con un pochino più di volano la moto è un pochino più dolce però stiamo parlando di 125 quindi se ce l'hai bello in mano comunque una moto leggera divertente e facile da usare altro aspetto sicuramente interessante è il nuovo setup anche dal punto di vista sospensioni come per le sorelle maggiori per il modo ieri 2023 abbiamo una forcella sulla destra dove puoi gestire la compressione dove c'è anche il precarico molla mentre sulla forcella sinistra hai il discorso del ritorno quindi in questa zona qua hai un po tutto il controllo di quello che è il comparto sospensioni anteriori entrambe le sospensioni sempre a marchio zf per quanto riguarda la linea rr e componenti di altissimo livello perché comunque abbiamo pinze e pompe dei freni nissin abbiamo una frizione idraulica della bremmo che funziona molto bene anche queste altissime temperature comunque non dà mai un cenno non ha mai diciamo sensazione di gonfiaggio è sempre molto precisa puntuale cosa che soprattutto sul 135 che usi parecchio è importante dal punto di vista marce chiaramente essendo un motore di piccola cilindrata devi usare molto il discorso su e giù con le marce che se arrivi dalle moto quattro tempi o comunque le moto grosse se è un pochino legnosetto all'inizio ma una volta che prendi confidenza ripeto ti diverti come un matto anche perché poi il suono di questa moto è davvero appagante dal punto di vista del motore come dicevo abbiamo un albero motore alleggerito questo ha consentito anche maggior spazio all'interno dei carter quindi anche i carter mortone sono stati ridisegnati per alloggiare chiaramente questo albero motore più piccolo il tutto si traduce in un alleggerimento di peso di tutto quella che è la componente termica e a differenza di quello che invece sono tutte le sorelle maggiori che hanno l'avviamento elettrico la 125 rimane ancora a pedale sempre per il 2023 sono state riviste anche alcuni punti chiavi dell'ergonomia delle sovrastrutture in particolare quello che sono i fianchetti che sono i convogliatori del serbatoio più che altro per creare un pochino più di snellezza tra le gambe e soprattutto sono state chiuse un po le ali le punte che sono i convogliatori d'aria per quanto riguarda i radiatori per evitare eventuali incastri con gli stivali o punti di ancoraggio che potrebbero essere pericolosi e scomodi nella guida da notare anche le nuove grafiche che sono con un rosso bello potente e un nero che comunque le dona molta slancio e un disegno abbastanza racing molto interessante e una posizione in sella che a me piace molto perché la triangolazione che c'è fra il manubrio le pedane e la sella comunque sei sopra alla moto sei sopra al manubrio e alla situazione sempre molto sotto controllo quindi ragazzi sia che siete delle nuove leve che quindi vi state approcciando al mondo dell'enduro e mondo delle competizioni sia che siete invece nella mia categoria che ormai la possiamo definire major la 125 assolutamente la prende in considerazione perché comunque da grandi soddisfazioni impegna poco dal punto di vista diciamo fisico anche se nella guida bisogna essere molto agili molto efficaci ma è sicuramente un mezzo che ti può permettere veramente di divertirti con poco anche perché dal punto di vista manutenzione quant'altro è molto semplice da gestire gamma 2023 già disponibile presso tutti i concessionari nella sua versione rr quindi questa la trovate a 8.290 presso i concessionari secondo me è una moto che che andrà a ruba quindi vi consiglio comunque di andare presso dai concessionari per potervi trovare riservare il vostro modello ragazzi direi che per oggi sul 125 abbiamo detto tutto se avete qualche domanda qualche dubbio riguardo a qualche dettaglio della moto commentate qui sotto e cerchiamo di dare tutte le risposte riguardo e ci vediamo alla prossima prova su moto.it ciao ragazzi